ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi in questo semplice video riparleremo di sonoff e in particolare vedremo un semplice collegamento che sembra apparentemente banale ma potrebbe trarre un inganno qualcuno mi è anche stato chiesto come poterlo effettuare quindi lo vedremo velocemente in particolare vedremo come mettere in cascata un relais ad un dispositivo sonoff in questo caso ho preso a riferimento il sonoff mini r2 un relais passo passo e ovviamente qui ipotizziamo di avere un carico ma perché mettere un relais in cascata ovviamente il relais interno al nostro sonoff non ha una portata così elevata quindi magari nel momento in cui vogliamo alimentare e gestire un carico di potenza abbastanza elevata ovviamente lo si può fare mettendo in cascata un relais e quindi in questo video vedremo semplicemente come effettuare questo collegamento in questo caso ripeto ho un sonoff a riferimento un sonoff mini r2 perché ho scelto questo perché comunque ho questa disposizione poi vi farò vedere fisicamente il collegamento e quindi ovviamente anche il funzionamento ho optato per scegliere per utilizzare un relais passo passo quindi cosa significa che funziona ad impulsi ogni impulsata va ad accendere e spegnere il carico sono presenti in questo caso è un finder 2601 lo abbiamo anche già l'ho già portato anche sul canale quindi è giusto o questo qui in questo momento posso vi faccio vedere la configurazione con questo dispositivo ma bene o male i collegamenti sono quelli basta alimentare la bobina 1 a 2 e far funzionare il relais in questo caso qua ci sono ovviamente quattro contatti a 1 a 2 la bobina di eccitazione del nostro relais 1 e 2 è un semplice contatto che va a variare in funzione di ogni impulsata quindi ovviamente il nostro sonoff in questo caso va ad essere configurato come impulsivo quindi da un impulso è come se fosse un pulsante e quindi fa variare la variazione fa fare uno scatto a rele quindi una pulsata accende il carico un'altra pulsata lo spegne e via dicendo questa è quella configurazione che vedremo oggi allora in particolare abbiamo in questo caso evidenziato una normale linea monofase fase e neutro questo non si vede ma è azzurro questo è nero ora vedremo i collegamenti che sono semplici ma potrebbero ovviamente trarre un inganno a chi è magari un pochino meno esperto ovviamente ripeto con la corrente non si scherza se non siete sicuri lasciate stare questo è giusto un video illustrativo allora cosa dobbiamo fare prima di tutto fatto le varie premesse quindi un carico abbastanza grosso un relais passo passo 2601 delle finder un sonoff mini r2 in configurazione impulsiva quindi come se fosse un normale pulsante allora a questo punto vediamo come effettuare i collegamenti questa è la nostra linea monofase fase e neutro e iniziamo a collegare il neutro per tutti i dispositivi quindi partiamo dal neutro andiamo sulla nostra linea di neutro e facciamo la derivazione questo è ovviamente evidenza che non è un collegamento ma è un salto quindi si va a saltare la fase quindi portiamo il nostro neutro in n in qui da sinistra verso destra i contatti del sonoff mini sono n in n in è un doppione l in ed l out quindi il nostro neutro lo portiamo su n in poi cosa dobbiamo fare dobbiamo ovviamente portare anche il neutro sul nostro allee cosa facciamo sempre dalla stessa linea ipotezzate che questa sia una gassetta di derivazione andiamo con un altro con un altro filo ovviamente azzurro lo portiamo su a1 o su a2 l'importante è portare su la bobbina il neutro praticamente poi successivamente andiamo anche sul nostro carico e portiamo il neutro quindi tutti i neutri che ovviamente sono in comune con il circuito è lo stesso li portiamo sul nostro sonoff sul nostro relè e sul nostro carico nulla toglie che possiamo fare anche il collegamento in questo in questo modo qua avendo un altro contatto possiamo ovviamente portare il neutro in questo modo ma io per semplificare il circuito e per maggiore chiarezza faccio i collegamenti in modo separato a questo punto andiamo a collegare la nostra fase cosa dobbiamo fare dobbiamo portare l'alimentazione prima di tutto al sonoff in che sia connesso quindi partiamo con un filo di fase e lo portiamo in l in ora dobbiamo ovviamente portare la fase sul contatto del nostro relè quindi questo ipotizzate come se fosse il nostro contatto aperto che si va a chiudere o comunque varia in funzione della pulsata quindi passiamo andiamo e deriviamo sempre dalla nostra cassetta di derivazione il neutro lo portiamo sul contatto 1 per alimentare il carico ovviamente usciamo dal contatto 2 e lo portiamo sulla fase del nostro carico quindi per azionare il carico ovviamente in questo caso dobbiamo portare su a2 e chiudere il circuito dare alimentazione alla bobbina e quindi chiudere il contatto alimentare il carico ma come facciamo ovviamente per evidenziarlo diversamente esco con l out del nostro sonoff e vado a portare la fase su a2 a questo punto cosa succede che il sonoff alimentato il relè presenta sia la fase che il neutro ovviamente la fase che andrà a comandare il relè deriva dal sonoff che viene prelevato da l out nel momento in cui il sonoff si aziona quindi faremo una pulsata quindi avremo il nostro smartphone con ovviamente il comando di azionamento quindi ad esempio questo è configurato in 0,5 secondi impulsivo quindi clicchiamo sul tastino per 0,5 secondi si attiva quindi cosa significa che avremo su l out una fase cioè la fase che abbiamo riportato in ingresso la riporta in uscita questa fase va su a2 e per 0,5 secondi avremo alimentazione su a2 quindi la nostra bobina già il neutro a2 sente per 0,5 secondi la fase quindi si si attiva fa uno scatto il contatto si va a chiudere in questo caso ed alimenta la nostra il nostro carico essendo questo un relè passo passo impulsivo per poter spegnere il carico cosa bisogna fare bisogna dare un'altra pulsata sul nostro smartphone quindi riattiverà il sonoff per 0,5 secondi la fase la bobina sentirà nuovamente un'eccitazione quindi avrà una tensione di 230 volt e quindi cosa andrà a fare se precedentemente il circuito era chiuso andrà ad aprirlo e quindi a disalimentare il carico e via dicendo quindi come potete vedere se questo ad esempio può gestire massimo 2A io con un semplice relè posso arrivare tranquillamente fino a 10A con l'aggiunta di un relè che in questo caso ho voluto scegliere passo passo ma potete mettere qualsiasi relè ovviamente poi bisogna configurare il sonoff nel modo appropriato a questo punto visto i collegamenti andiamo a vederlo fisicamente quindi passiamo e vediamo una prova veloce di quello che abbiamo visto qui nella qui nell'immagine passiamo a vederlo fisicamente allora eccoci qua ho preparato oggi i collegamenti ovviamente per non perdere tempo quindi cosa abbiamo il nostro sono femmini il nostro relè 2601 è il nostro carico a questo punto cosa abbiamo fatto qui ipotizzate che questa sia la linea monofase oppure la cassetta di derivazione cioè il circuito dove andrete a derivare con fase neutro i vari collegamenti quindi cosa ho fatto con il neutro sono arrivato in l in come potete vedere sono arrivato dal filo sono partito dalla spina sono andato in l in successivamente in questo caso cosa ho fatto ho sfruttato l'altro l'altro morsetto l in e l'ho portato per non perdere tempo sul su A1 del relè quindi esco dal secondo morsetto e porto il neutro qua ovviamente questo qua come se fosse un morsettino non è nulla di particolare l'importante è portare il neutro successivamente cosa faccio faccio un ponte anche dal relè e mi porto il neutro sul mio carico quindi per quanto riguarda tutti i neutri li abbiamo collegati ora dalla fase me la porto su questo morsetto con questo morsetto esco e faccio due diramazioni quindi una che va sul sonoff e mi va ad alimentare il mio sonoff e un'altra che va sul contatto 1 del relè che va a portare praticamente l'alimentazione al carico il neutro del carico abbiamo detto quindi l'ho collegato in parallelo qui sul relè e sul morsetto 2 collego la fase del mio carico per chiudere il circuito quindi la bobbina l'ho evidenziato con il filo bianco quindi da L out esco e vado in A2 su A1 avevo già portato il neutro quindi i collegamenti sono quelli che abbiamo visto poco fa all'interno dell'immagine al computer qui ho un altro smartphone con l'app e we link che ho già configurato la configurazione non so se si vede è quella impulsiva quindi basta andare in cambia modalità modalità impulso e poi va attivata ovviamente anche il allora vediamo un attimo va attivato anche l'insing impostazione di insing quindi attivata e ho messo 0,5 secondi quindi cosa significa che dato l'impulso per 0,5 secondi attiva la fase la porta sul nostro relè e poi si va a spegnere quindi fa una pulsata come potete vedere quindi attualmente il carico è spento se io faccio una pulsata come vedete il il sono fu già disattivato però il carico essendo questo un passo passo rimane acceso per poter spegnere il carico nuova pulsata e ovviamente il carico si spegne come vedete una pulsata si attiva una seconda pulsata si disattiva questo ovviamente in funzione del fatto che ho dovuto utilizzare un relè passo passo e quindi ogni pulsata fa la variazione tra acceso e spento che dire un video semplice spero che sia utile a qualcuno se il video vi è piaciuto mettete un like vi invito al prossimo video alla prossima grazie ciao